Ciao a tutti, sono Antonello Dose con Marco Presta, conduco la trasmissione Il Ruggito del Coniglio su Rai Radio 2 da oltre 22 anni. Volevo dirvi che in Italia da oltre 10 anni ogni due ore una persona si contagia con il virus dell'HIV facendo sesso senza usare il preservativo, senza usare precauzioni. Tanti purtroppo sono i giovani e troppi sono quelli sotto i 20 anni. Questa cosa si potrebbe evitare facendo prevenzione e fornendo a tutti una giusta informazione. Le istituzioni pubbliche purtroppo lo fanno molto raramente. L'associazione Lila invece, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, fa esattamente questo. Proprio è nata per questo, lo fa nelle scuole, lo fa tra la gente, in tutta Italia, lo fa ogni giorno da 30 anni, perché quest'anno appunto è il trentennale, è il compleanno della Lila. Quindi io ti chiedo, dona anche tu il tuo 5 per 1000 alla Lila, alla Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, aiutando così i volontari della Lila nella loro lotta contro l'AIDS e l'HIV, aiutando tutti, tutti quanti cittadini a difendersi dal virus e soprattutto dall'ignoranza che spesso, troppo spesso, lo circonda. Grazie.